Un fatto di cronaca, un incidente stradale mortale che è avvenuto questa mattina, poco prima delle ore 16 a Fossacesia, lungo la strada statale Adriatica 16. Lo scontro ha coinvolto un'automobile e una moto. La vittima, dalle prime informazioni, è un giovane di 25 anni. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave nell'impatto mortale che è avvenuto nel territorio di Fossacesia, nella zona del fiume Sangro. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Ortona. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza.